Beh, tanto per cominciare vedo una bella platea, non la vedo così vuota, insomma. E' una sensazione che abbiamo provato pure noi, anche quello che diceva Micaela prima, diciamo, di un sistema che tende ad essere il merito, che quindi cerca di combattere, non combattere e escludere qualsiasi cosa che sia diverso e che sforga dal basso. Quindi, alla luce della nostra esperienza, visto che vedo delle assonanze, vi dico tranquillamente, continuate ad insistere. Quindi quello che spero è che alla prossima riunione, quindi la prossima volta che venga una riunione di cambiamenti, cambiamenti sia finalmente riconosciuta come sindacato. Non comprendiamo il motivo per cui qualsiasi voce che sia, come dire, diversa dal coro non debba essere riconosciuta. Mi ricollego a quello che diceva prima Andrea. Cioè qua parliamo di una società di trasporti che è praticamente monopolista del settore, fatto appunto esclusione per il 20% che viene dalla Roma PPL e appunto i privati che, come diceva Andrea, dichiarano di guadagnare in maniera matematica e sistematica dalla gestione del servizio. Quindi non comprendiamo come sia possibile che questa società continui a perdere 150-200 milioni di euro all'anno. e sinceramente, Assessore, dopo due anni, e questo persiste perché poi iniziamo ad essere quasi abitati alla consigliatura, qualche domanda ce la stiamo facendo su quello che si stia o non si stia attuando per evitare che questo continui ad avvenire. e se c'è una reale volontà che questo non avvenga e quindi non ci sia, come dire, un progetto, chiamiamolo così, di privatizzare questo servizio, cosa cui noi ci opporremmo con tutte le forze, sinceramente mi sembra che i provvedimenti che si stanno mettendo in campo, e mi riferisco soprattutto alle linee guida di cui si parlava avvocarsi, non vanno in quella direzione. Non ne faccio solo una questione quantitativa, ma anche una questione qualitativa, perché qua purtroppo nei contratti di servizio, nelle linee guida, si continua a parlare esclusivamente del dio chilometro, ma non si parlano mai e sarebbe il caso di farlo. che è la qualità del servizio. Perché, a parte che comunque le corse sono state ridotte, quindi anche i chilometri sono stati ridotti perché sono carati di circa un 20%, qua si parla di 101 milioni di chilometri, quindi corse ridotte in numeri della razionalizzazione, che non è stata una razionalizzazione. parliamo di un taglio di 70 linee, di quasi un 20% del servizio. Ma soprattutto non si parla della qualità, perché, per esempio, io prendo il 60 tutte le mattine, ho preso anche stamattina la piazza Primoli a piazza Venezia, ma mi direi che noi scriviamo che il 60 ci mette 30 minuti alle 8 del mattino, se poi quell'orario non lo può mantenere, lo si attrezzano dal traffico di Roma e quindi neppure 200 milioni di chilometri, e io vi chiedo, con questa qualità e questa quantità, come pensiamo di affrontare il giubileo del 2016? con questa qualità di questo giubileo del 2016? riconosciuti, quantomeno riconosciuti, 90 milioni di euro in più al general contractor. Perché, invece, non facciamo quello che realmente serve per aumentare la qualità del servizio? Cioè, il buon amico Stefano, che si sbarte su queste cose, ha fatto, per esempio, una proposta in delibera sulle corsie preferenziali, che sono quelle che realmente servono per migliorare la qualità del servizio. Perché questa proposta non la ristudiamo? Perché non viene portata in acqua? Non va bene? Ementateci, non va bene? Eccocciateci, ne faremo uno il giorno dopo. Perché non si parla mai di complica sostenibile? Perché non si fanno le viste ciclabili? Perché non si fanno le corsie preferenziali? Perché non si discute mai di metropolitana di superficie? Ad esempio, l'Aronaviglio, perché non la trastorniamo in una metropolitana di superficie? Si possono accendere, per esempio, di 20 milioni di euro per pensare, un'operazione di due primi numeri a livello trasportistico quantitativo che stanno rivelando inefficaci. E vengo a un altro aspetto, la riduzione degli strechi di ATAC che si dovrebbe fare. e poi ci sono delle persone, dei dipendenti della società milanese. E mi risulta che la società milanese abbia due dirigenti. Qua in ATAC forse qualcosina è stata fatta su questa cosa, però mi risulta che invece i soldi ci sono per mantenere 70 dirigenti. Si spazia di rispondi che donariano 40, 200 mila euro a testa, con criteri di attribuzione della premialità, che sono sempre assessore, su questo dovremmo veramente incidere, che sono francamente piccoli. Mi posso riferire anche alle consulenze esterne, forse sarebbe anche il caso di farmi una di tutte, quella del sindaco Castaldo, su cui ATAC però ha avuto 360 mila euro da riconoscerli, nonostante ci fosse il parere concorde, in tre lettere del socio che diceva di non pagare. E si quasi continuano a dare consulenze esterne. Noi su questo abbiamo anche fatto un'interrogazione, perché ci risulta che l'ufficio legale si continua ad essere implicato per fare i contenziosi alla, che sono contenziosi persi. Noi li portiamo fino in Cassazione a perdere. C'è una pertenza della Cassazione a sezioni unite che ci ha torto, eppure continuiamo ad affidare le cause, le cause principali esternamente, questo quantomeno a me costa, poi mi risponderà lei all'interrogazione che abbiamo fatto, e quindi continuiamo a impiegare tutto l'ufficio legale per fare sostanzialmente delle cause perse, mentre continuiamo a dare gli incarichi esternamente. Quindi alla fine finisce che facciamo efficientamento al sessore, come leggo dalle linee guida, efficientamento sul costo del lavoro. E quindi andiamo magari a impurre i turni da 7,15 ore, oppure a non riconoscere la malattia, oppure a non riconoscere la 104. Quindi come al solito... Come al solito si fa cassa sui lavoratori, e qua parliamo di un'azienda di trasporti, mi diceva prima di Gaela, che su 12.000 dipendenti, questo è un rapporto veramente assurdo, anche su questo non l'abbiamo visto per nulla, ha soltanto 5.800 autisti, 5.800 autisti che coprono il servizio con un 30% di straordinari, che mediamente non si prendono 100 giorni di fede a testa, questo è un rapporto che purtroppo non è una specchia che è stata fatta prima, che magari molte persone non sono qui perché hanno dovuto piegamente contrattare un giorno di fede col sindacatista di Duglio, questo è un rapporto che viene riferito, con 300 quibili sindeniali che continuano ad essere venuti a bagno e alla fine di quest'anno molti di questi autisti andranno in pensione e non risulta che ci sarà un ricambio, perché non utilizziamo ad esempio quei 315, con un contratto collettivo nazionale che è fermo dal 2007, altro che prendersela alla luce di questi numeri con lo sciopero del venerdì. Autisti che, come diceva prima Micaela, lavorano in condizioni indegne, costretti a fare i loro bisogni, come diceva prima dietro una ruota del pullman e con mezzi che sinceramente non sono manutenuti come dovrebbe essere. Le do solo alcuni dati. Dal deposito di Grotta Tossa, questa è l'ennesima interrogazione che mi ha fatto Stefano, risulta che ci sono su 450 vetture, 170 sono perte. Quindi queste con indubbi e ricadute, tanto sul servizio e sul numero delle corse, quanto sulla stessa sicurezza degli autisti. Ora, sicuramente, ultimo appunto che le faccio, se si comprano 700 mezzi nuovi, peraltro diesel, stiamo ancora con il diesel, se si comprano 700 mezzi nuovi, forse sarebbe il caso di sentire una rappresentanza degli autisti. sulle caratteristiche tecniche che quegli autobus dovrebbero avere. Ecco, vedi, assessore, a due anni di distanza, sinceramente, mi sembra che i numeri siano oggettivi, su questi aspetti non abbiamo visto luce. quindi io credo che o c'è un cambio di passo, oppure, ritorno al discorso che abbiamo fatto inizialmente, ci sembra che ci sia una chiara direzione verso cui si vuole mandare questa pietra. La direzione, parliamo giudicato, della privatizzazione e noi su questo veramente ci opporremo con le uniche cose.